io, io Diego, io Sofia, io Giorgia, Silvia, Silvia, Laura, Roberto, fammi vedere gli occhietti Roberto, fammi vedere, oh che bellino, anche che c'hai però, anche lui è babbo natale, anche lui è babbo natale come te, aspetta un momento, tu come ti chiami? e tu? Mirella, tu? e adesso tocca a te, un momento, tocca a te, come ti chiami? come lo dici? Giussarna, lui, lui, Marco Priori